Preparatevi a tornare indietro, molto indietro, all'anno 1, quando gli uomini erano uomini. Dimmi se sai resistere a questo. Aspetta un secondo, ti devi entrare dentro. Devo lavarmi i capelli. Te li sei lavati l'anno scorso! Per fare colpo sulle donne, trascinala nella tua capanna. E se fa resistenza? Le dai una bottarella in testa. Ai! Le femmine apprezzano. Zed e O. Stasera festeggiamo. Partiranno per un viaggio. Per diventare uomini moderni. Questo caso farà troppo! Aiuto! De, donde provenite? Vuole sapere di dove siete. Non giungerete dalle città di Sodoma e Gomorra. Le donne sono svergognate, si viscono le carni e ogni uomo può godere di esse. Veramente non mi pare troppo male. Da Columbia Pictures! È pieno di bozzi! Benvenuto a Sodoma! Come va? Un ciccione mi ha dipinto tutto il corpo. E com'è andata? È stato estremamente accurato. Schiaffi a me, pancino! Ho passato due ore a strofinarlo d'olio. Sono peli di torace. Solo in parte. Quest'anno... Vorrei vedere quanto sei grosso senza frusta. Praticamente lo stesso. Due eroi rischieranno tutto. No, non le uccidete, non le uccidete! Per un po' di movimento. Devo andare laggiù. Tieni, reggi questa! Jack Black. Michael Serra. Che spettacolo! Anno uno! Voglio che tu mi entri nel Sancta Sanctorum. Le stranezze della lingua. Figurati che dalle mie parti si chiama Topa Toporum. Praticamente!